Non avere paura, sterza, sterza, non ti preoccupare, la vedo io, vai, gira, gira, vai dietro la retromarcia, non lo prendi, non lo prendi, vieni, vieni, vai, vai, vai Salve, salve, e dove va lì? All'Expo Libro E la macchina? Questa è la macchina Questa è la macchina? Sì E che macchina è? Presidi del Libro, all'Expo Libro Beh si può accostare un poco, che devo fare parcheggiare qua, qua Dai tu vieni, vieni, attento, attento, no no, tranquillo, vai, gira, sterza Mo Sterza, 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 vai, vai, ritrovarci, ritrovarci, a posto Qua deve rimanere lì, proprio Sì, presidi del Libro, all'Expo Libro Presidi del Libro Un caffè? Vai bello, vai, 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 vedi stamattina che cosa va a capitare a me, vai, vai, gira Grazie a tutti